Ecco un optional di questo appartamento che non era scritto nell'annuncio. C'è abbastanza ossigeno, cibo e bevande per sopravvivere per mesi. Lo specchio è blindato e completamente insonorizzato. Dal di fuori è impossibile sentire o vedere ciò che accade dentro. Perché non lo metti alla prova? Cosa hai da perdere? Non è facile neanche per me. Non ho il coraggio di dirtelo in faccia. È finita. Ti amo, ma ti prego non cercarmi per nessun motivo. Non ti sembra un po' strano? La sua fidanzata è sparita solo da un mese e già sembra essersi abituato all'idea. Sei geloso? Succedono strane cose in casa. Questa stanza è l'opera maestra di mio marito. Non ho mai capito perché l'abbia realizzata.